Grande entusiasmo al campo sportivo La Ramoscina di Gavinana nel comune di San Marcello in occasione della presentazione delle squadre della società montagna pistoiese. Otto le formazioni in organico partendo dalla squadra dei senior che parteciperà al campionato di seconda categoria per finire ai gruppi dei primi calci. La società che ha cominciato nel 2012 è a passi importanti ogni anno si migliora, si migliora nelle strutture, si migliora nelle squadre, tant'è vero che con la seconda abbiamo sfiorato il passaggio in prima categoria. Già ci siamo stati in prima categoria, con la Juniors abbiamo ottenuto un secondo posto, abbiamo sfiorato di fare il primo posto, quest'anno ci sono otto squadre e qui ci sono dei dirigenti, accompagnatori, allenatori e tutti quelli che seguono che sono assidui e sono entusiasti. Quindi che devo dire? Io come Presidente sono orgoglioso di questa società e dico a tutti, è proprio la vera risposta che la montagna vuole sempre vivere di più e meglio. Siamo contenti del successo che si è avuto e speriamo di continuare così. L'appello che do per quanto riguarda come responsabile del settore giovanile, chiedo di venire a provare in questa società a chi piace il calcio, specialmente i bimbi che devono iniziare, di venire a provare senza impegno, senza niente a provare la nostra attività. Devo rendere atto che la collaborazione con il Comune è ottima. Quest'anno la SD Montagna Pistoiese ha messo in campo un progetto molto importante per la tenuta e per la riqualificazione del manto erboso di tutti gli impianti che gestisce e il Comune ha contribuito con un investimento che è sotto i nostri piedi e che è l'impianto di irrigazione fisso del campo di Gavinana che dà ulteriore valore a questo campo. Oggi è stata anche l'occasione per presentare un progetto importante dell'amministrazione che parla a tutte le famiglie, a tutti i ragazzi e giovani sportivi. Dal lunedì sarà disponibile sul sito del Comune i bando che scade il 25 settembre per un contributo per le famiglie che hanno un ISEE sotto i 25 mila euro che dà 250 euro di contributo diretto, quindi non c'è bisogno di pagarlo ma paga direttamente le società alle quali si aderisce di una certa quantità di squadre che hanno aderito per diversi sport. Anche la SD Montagna Pistoiese ha aderito a questa iniziativa che darà la possibilità a più famiglie di far interessare allo sport i propri ragazzi o comunque di fare sport a propri ragazzi con un minor sacrificio.